Sapete che la pizza è letteralmente un piatto completo? Parliamo sempre di quell'alimento che è tanto dibattuto così tanto piacevole, che è la pizza stessa. Con alcuni semplici ingredienti possiamo ottenere tutti i nutrienti che ci servono da carboidrati, proteine, lipidi e possiamo aggiungerci la fibra che vogliamo. In questa maniera, di fatti, possiamo avere un piatto completo che potrebbe essere consumato tutti i giorni con differenti tipi di ricette, grammature differenti, e che è praticamente un pasto unico, senza nessun tipo di contorno. Attenzione però, tutti gli ingredienti debbono essere bilanciati, anche perché da pasto completo e unico a un pasto ultracalorico è letteralmente un attimo. Quindi attenzione, fatevi seguire da consigli esperti, anche consigli di cuochi esperti o pizzaioli che possono effettivamente farvi fare la dieta della pizza, perché sì, esiste, ma non la fa praticamente mai nessuno perché dovresti adoperarti in maniera precisa a conteggiare tutti gli ingredienti freschi, calcolati, profumati soprattutto, ma anche soprattutto doverli ricercare. E purtroppo al giorno d'oggi nessuno ha più voglia di ricercare, perché vuole tutto pronto. Ma basterebbe davvero poco, come l'esempio della pizza stessa, per avere comunque un alimento completo da poter consumare come e quando si vuole, in vari tipi di formati anche. Grazie. 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 Grazie.